salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi video particolare qua sempre nella location adiacente alla casa dei miei genitori dove porto mia figlia quando io vado al lavoro appunto come vi ho già detto il lavoro in azienda alimentare quindi il lavoro e sto lavorando tuttora mia moglie fa la cassiera in un supermercato quindi lavora tuttora quindi nostra figlia viene qua dai suoi nonni che abitano la quindi io non posso che approfittarne della fortuna di avere loro che abitano in questa campagna e quindi posso fare qualche test e qualche prova con i miei droni anche se ovviamente la location non è bella non è spettacolare ma per fare un po di teste ci accontentiamo in questo periodo ragazzi dove non si può andare da nessuna parte mi accontento davvero di questi piccoli voli che per me comunque sono una mano dal cielo per rilassarmi e creare video quindi ragazzi il video di oggi sarà un test particolare ce ne sono già stati su youtube ma non con questa fotocamera in particolare sì perché ho montato la istra 360 one air sul piccolo mavic mini quindi vedete montata la telecamera sopra mavic mini e sono già state montate le istra 360 one x ma con la one air non ho ancora visto nessuno quindi probabilmente sono il primo o uno dei primi credo non che la cosa cambi tanto ma avremo comunque un video 360 di questa one air è l'ultima nata di casa istra 360 la telecamera componibile ovviamente non è una cosa da fare ragazzi non fatelo ve lo sconsiglio perché comunque il peso da portare per questo piccolo drone è davvero tanto è un conto e praticamente il peso del mavic mini equivale quasi al peso di tutta la struttura della fotocamera che è stata montata sopra quindi è veramente al limite uscirà sicuramente la scritta peso carico massimo uscirà sicuramente perché il peso è davvero tanto però ci tengo lo stesso a fare questa prova questo test per vedere a 360 gradi dal piccolo mavic mini e vedere il piccolo mavic mini inquadrato dal sopra quindi un inquadratura una prospettiva particolare soprattutto con una telecamera totalmente nuova e soprattutto innovativa quindi ragazzi non perdiamo il tuo tempo ed eccogliamo con istra 360 one air e dji mavic mini time stops when i'm falling for you the world stops spinning my head is spinning too time stops when i'm falling for you is your head is spinning in two should i stop or are you falling for me is your head spinning in two should i stop or are you falling for me is your world stops spinning is your head spinning in two is your head spinning in two is your head spinning in two No 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 My heart stopped when I first saw you My world stopped spinning No My world revolves around you Did your heart stop when you first saw me Did your world stop spinning Does your world revolve around me Me too Me too Me too Me too Should I stop while you're falling for me Did your world stop spinning Is your head spinning too Come on I've seen so You have seen me perché comunque il peso da trasportare per questo Mavic Mini è davvero tanto e non è una cosa facile per lui portare tutto questo peso e lo posso anche capire, la prossima volta sicuramente la monterò su un drone un po' più importante che non ha problemi a trasportare peso tipo un Fimi X8 o su un autelivo che praticamente sono in grado di portare pesi assurdi perché comunque sono droni molto pesanti con prestazioni motori che spingono davvero tanto e non come qua dove il peso sopra il Mavic Mini è forse maggiore del peso del Mavic Mini, quindi è stato solo un volo test, un volo prova perché ci tenevo a fare questo test per vedere il Mavic Mini con una prospettiva diversa, quindi ragazzi se questo test che non vi consiglio assolutamente di fare e non fatelo di montare una camera 360 sopra il Mavic Mini e vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerti se non l'avete ancora fatto e se vi va ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, recensione, un test tutorial, una novità, ciao! Ciao!